Nel fine settimana sulla regione affluiranno in quota correnti da nord ovest, mentre l'aria tenderà a farsi un po' più umida. Per sabato prevediamo cielo poco nuvoloso, ancora freddo di notte nelle valli alpine e anche in pianura si sentiranno temperature piuttosto basse e ci sarà ancora la possibilità di qualche gelata. Massimo intorno ai 18 gradi in pianura, 14 o 15 gradi sulla costa dove sofferà nel pomeriggio vento dal mare moderato. La giornata di domenica cielo in genere è ancora poco nuvoloso, con temperature in leggero aumento e si avvicineranno le massime ai 20 gradi in pianura. Non è escluso che nel pomeriggio vi sia qualche isolato pioggia o rovescio in montagna, però la probabilità è piuttosto bassa. Con l'inizio della prossima settimana il tempo si farà più umido, con delle piogge inizialmente deboli, piogge importanti arriveranno tra mercoledì e giovedì. Dall'Osservatorio Metodo Regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.